Musica Musica Bene ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo episodio della Old Craft Finalmente ragazzi come mi avevate chiesto in multiplayer Però però ci sono dei cambi di programma Perché la serie sarà con Deid Eeeh ciao a tutti Con Masa Ciao a tutti ragazzi E infine con il coglione di pezzo Il pezzo di merda Ciao E niente ragazzi Allora la serie come si strutturerà? Molto semplice sarà come la vecchia Old Craft Dove ognuno avrà la serie all'interno della serie Ovvero ognuno farà quello che vorrà Quindi passate dai canali che troverete in descrizione Perché ognuno potrà fare le cose diversamente Ovviamente se ci troviamo possiamo fare episodi assieme Quindi boh E l'importante è che sappiate che il 90% di questa serie La passeremo a stuprare pezzo Ciao pezzo Io l'ho già fatto Addio pezzo Comunque niente ragazzi lasciate già un bel like Cerchiamo di arrivare magari a mille Che mi fate felice E boh adesso ragazzi io direi che le prime cose da fare Sono prendere il legno Prendiamo il legno Poi ragazzi non so se l'avete notato Ma siamo a 1.7.10 Ah Marci qui c'è un albero della gomma Si lo so l'ho già visto bastardo Lascia un bastardo Astigazzi muori male Ah ragazzi Se avete consigli da darci riguardante il pack Soprattutto per me che io Questo tipo di pack Non l'ho mai giocato Ma ne ho giocati altri Quindi le mod all'interno non le conosco ancora tutte O non le ho guardate Dateceli pure qui sotto con un commento che ci aiutate tantissimo E soprattutto ragazzi Volevamo pure dirvi che questo pacchetto Visto perchè sono sicuro accetto 1 Percetto che l'agente nei commenti dirà Ma che pacchetto è? Il pacchetto lo riscaricano è? Il pacchetto è il TRC Classic Reborn Lo trovate sul Technic Launcher Dovrete essere premium per utilizzarlo Dovete essere premium in realtà anche SP Però poi sono cazzi vostri Perchè vi dovete creare l'istanza e Fa niente Noi non sappiamo niente di queste cose Un'altra cosa ragazzi Che mi avete chiesto Era appunto di farla con tanta gente Quindi potrebbe essere Ci potrebbe essere la possibilità Che magari un'altra persona possa entrare E questa persona non posso dire ancora che È più di vai Da notare che c'è stato un commento ragazzi Adesso vediamo Se mi ricordo lo faccio passare davanti Che mi ha chiesto Marci fai la serie con FabiJ Boh Non l'ha accettato Non l'ha accettato In realtà è Marci che gli ha detto di no Esatto Gli abbiamo detto di no regà Perché la differenza di iscritti è troppa E non abbiamo voglia di boostare canali piccoli e immeridevoli Esatto Vedi che cosa ho trovato? Cosa hai trovato? Diamante Un marmo No regà Io e Marci abbiamo già fatto questa serie qui E ci avevamo la casa Eh vabbè era il peggio pacchetto E ci avevamo praticamente la casa che era la più P e probabilmente la più bella della serie E regata tanti 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 ricordi su sto pacchetto qui Perché è proprio picco Tante fisi Io ho paura Io ragazzi non vedo niente Quindi adesso voi non vedete niente Sì infatti non si vede una sega Io sto facendo dalla foresta E quindi ragazzi adesso una cosa proprio tattica Visto che siamo nel primo episodio Si fa Si fa Si fa Ora mi ammazzano gli iscritti diversi Cosa? Cosa? Cosa hai fatto? Cosa? Cosa? Oh è gioco Magia 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 È quasi magia Marci È quasi magia È quasi magia Marci È quasi magia Marci Ragazzi ma io ho trovato un buco Un buco di me Molto magico Cos'è? Cos'è sta roba? A forma magica Io mi so Io sto facendo la base delle basi dell'universo e oltre Amen Perché è tipo troppo bella È troppo bella Ma cosa stai già facendo te? Cos'è che ti sei messo a fare? Ho trovato il marmo Io sto facendo i solar panel Eh Io sto facendo Sto facendo No raga Adesso con calma vi trovate i materiali per farvi la casa La casa Perché la casa è la cosa Ma sta piovendo Ma sta piovendo Non posso togliere tutto raga Io sono una persona proprio classica per cui proprio vado di casa di legno Minchia Ma Sarone ha appena fatto la crafting table Raga ha appena preso la keypad più difficile del gioco Signori Guardate La verità è sinchiazza Oh ma chi è che si è fottuto la naga? Ah no è qui Minchia penso già sta più avanti di tutti Raga già si è fatto I generatori Oh ci sono i pugnali Che figli No raga io mi sono fatto le prime torce Sì pure io c'ho le torce Tutto a posto Il piccone di pietra già ce l'ho Mi faccio un paio di torce E Io adesso mi vado a prendere il mio marmetto E adesso vado a fare proprio strage di figa Guarda Il marmo Sì se ti piacerebbe Comunque lo sto dicendo C'è il marmo Che è il marmo Ok Marci mi sono appena fatto un treat up Qua ti ricordi Mamma mia il treat up Il treat up Il treat guys Che schifo Comunque mi fai cagare Ho già rotto tre quarti di cazzo Ma io ragazzi Non lo toglierò Comunque a me servirebbe cibo Quindi Please Una mucca Quindi ammazz Ragazzi io sto ammazzando cavalli Dovete sapere che Ammazzando Maserone Vi darà il cusciotto Daniello Quindi ammazzate In modo di fare Incredibile E ammazzando E ammazzando Pezzo Non vi da No Ma l'ha tirata anche a voi La laggata Un gold Ah ok No perché mi sono trovato Tre zombie dietro Dietro di nerd Una strega mi sta Cercando di ammazzare Incredibile La evito E la uccido Oddio il marmo Guardate in chat Guardate in chat Boom Boom Si è fatto già la roba di Boom No io c'ho il marmo Il block Ma ce l'ho anch'io Il ferro da prendere Da qualche parte Giuro che c'era Una volta c'era Giuro Non è vero Dai su Io ci sto messendo La regala Comunque io Vorrei di Reportare pezzo Per cibo Per tra iati Petto di pollo Ragazzi reportate petto Che scemi Petto Petto di pollo Petto di pollo 96 Guarda qua Io già Non devo andare più Nel nether La witch mi ha droppato Glouston Che cura Vabbè allora Ah già è vero che te la puoi fare Che petto No me la devi fare imparare Ah regà io Adesso vi faccio vedere una cosa Si chiama Project Perché gli hanno cambiato nome Project Project E Guardate qui Che cosa cazzo c'è Ma è la vecchia Red Project Le claim star Le La dark matter Per la red matter Oh far da mo Ragazzi Non c'è la dark matter In sto modo Pure la red matter Che cosa è la limestone È un altro tipo di roccia Ebroni ci puoi fare un cazzo Sì è una roccia normalissima È come la Che bella Ma perché io sto trovando Invece solo tipo terra Anche io sono Ragilla Ma lo sai come Lo sai come farò la casa Come nell'ultima serie Come nell'ultima serie Uguale e identica Anche perché non so fare di meglio Ragazzi comunque ci stanzieremo relativamente Lontani Io mi sono già perso nel bosco Anche io Sì vabbè pure io Non troverò mai più la via di gara Ma voi siete già andate all'esplorazione Eh sì perché io Io sto Io sto Io mi sto prendendo anche il caverna Per i materiali Sennò è un casino No io Sto cercando una caverna Così Addio per pezzo muore tra tre Due Pezzini Io ragazzi ancora niente iron Ne sono giù Sono dopo giù Ragazzi sono giù Io sto facendo strage di bolli qui Oh mio dio Che pezzo culo Poi ragazzi Siete arrivati fino a questo punto Siete in tutti i canali Ah no 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 raga Uh lana raga posso farmi c'è il letto io Anche sotto il canale di pezzo Hashtag pezzo culo Soprattutto sotto il canale di pezzo Pezzo culo Pezzini Ho trovato il marmo Ok col marmo mi farò la casa Su questo marmo Si rincerà la mia casa Il marmo è un qualcosa di tipo troppo bello Ho trovato la caverna piena di marmo Bella così Ma aspettate come che era la Sto cercando cibo No così Cos'è Che stai cercando Che stai cercando Aiuto Così Stai facendo un video Non ho capito Stai facendo un video Ragazzi voglio sapere Nella mini mappa Ragazzi mi si può vedere Nella mini mappa Se c'è una caverna Una volta si poteva Ma è diventata scema Venga io ho trovato la caverna più grande della storia Hai trovato che coi Raga ferro Ho trovato Ho trovato anche io Io ho trovato altra lava Lava come lava E del quarried stone Solo che non c'ho materiali per racconto Ma è anche inutile la quarried stone Ma ragazzi ma non c'era una volta anche tipo Com'è che si chiamava Ma è bella è bianca Ah no Eeeh Sa perché Per caso è anche liquida Oppure è polverata Eh beh Eh beh Ma una volta Fezzone sa qualcosa Ci spende i soldi da partner No 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 raga una cosa al volo Una volta non c'era il copper In qualche modo Sì sì c'era Ma per i marci no Ora che non ho trovato il copper Cioè proprio per me Per me no Cioè perché Se per me no è no Per me no La Tecnicraft aveva tanti materiali diversi E non mi capacita ancora perché non ho trovato il copper Infatti Fezzola vogliamo smettere con questo linguaggio forbito Bravamente Ma parla come mangi Ma parla come mangi Porca troia Io mangio bene Io voglio il mio copper Io mangio con le mani Io voglio il cibo Ma io voglio il copper Non me ne frega niente Io sto buono di fame Io se non trovo il copper me lo citto Ascolta Me lo cibo Cioè con quanta violenza Io voglio il mio copper Dove è il copper? Io l'unica entità Viva che ho trovato Sono delle pecore che non mi danno No no ma come no Le pecore non danno cibo No no Non nella 1.710 Non siamo Ah è vero 1.8 Ah cazzo è vero Ma è schifo Maserone Non sei niente Ma io ho detto Ma io ho detto Ma io ho detto Ma io ho detto Informati Regà ma se vi dicessi Che ho trovato diamante Ma se vi dicessi Che ho trovato Io sto scavando solo carbone Lo zinco Lo zinco Lo zinco Oddio È inutile lo zinco Ma serve il copper Lo zinco Regà muoio muoio Ve lo giuro che muoio Muoio nel mio episodio Qualcuno si deve vedere il mio video Perché sto trovando solo carbone Non ci credo Ragazzi 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 posso morire ora Almeno Posso morire in fame Marci Marci mi oppi No No dammi l'ho Ho trovato il thinner Non te lo posso Guardalo Perché no Perché no Dove minerale Marci oppami Ma come non c'è Madonna Marci Me la devo fare a piedi No raga Ho finito tutto Dell'universo Sbagli Già Come è finito tutto Capito Già Comunque nel frattempo sta ancora piovendo Io direi una cosa sola Ma che per il primo episodio Potrebbe anche andar bene Sì anche perché io sono morto Doveva giudersi così l'episodio Con la mia morte Vaffanculo Povero zarono Non ho fatto niente Ragazzi Sì Sì Ma sta piovendo veramente È il più giro che la piove È un quarto odore che piove È un quarto odore che ce l'ho inseguita Da mob Vabbè ragazzi Se il video vi è piaciuto Vi invito a pasciara A pasciara A pasciara A pasciara A pasciara A pasciara Andiamo Siamo un pasciara Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace Un commento Iscrivervi al canale Di Pezzo Deide Masa E passare dagli loro rispetti Di pagine Instagram Che saranno rendotte In destino Perchè Instagram? Perchè Instagram? Non i profili E i profili Facebook E la prima cosa che mi mente Quindi ragazzi Per questo episodio è tutto Ci vediamo Ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti